Ragazzi questa è la nostra scatola nera, nel caso ci trovasse qua stecchiti, ci siamo persi, stavamo cercando di andare a Siena e vi assicuro che ci è mancato poco così, siamo partiti tre giorni fa da Firenze, la vista è splendida, abbiamo ancora un po' di acqua, niente cibo e la strega di Blair ci sta inseguendo. Un saluto a tutti da questo paesaggio splendido sienese, ciao!